Grazie a tutti. La cosa più importante è che il dispositivo medico è un capitolo di enorme vastità, quindi noi abbiamo dei dispositivi molto semplici, basici, anche direi di vecchia introduzione come i materiali di sutura piuttosto che gli strumenti chirurgici e quanto altro. Abbiamo invece dei dispositivi estremamente sofisticati che hanno necessità di supporto informatico, energetico, pensiamo al robot per gli interventi chirurgici oppure ai pacemaker, a tutta una serie di prodotti che hanno la funzione di sostituire o integrare delle funzioni biologiche importanti. Di conseguenza per scegliere il dispositivo, per controllarne i costi, per verificarne la validità, sono necessari dei sistemi estremamente complessi e variabili. Io credo che da un lato sia importante tenere sotto controllo il costo ma soprattutto essere sicuri che vi sia nell'ambito di prodotti che hanno costi simili una verifica attenta della qualità e della riproducibilità degli effetti del dispositivo. Dall'altra parte, quando noi parliamo di dispositivi innovativi ad alto costo per unità, dare questi dispositivi in realtà assistenziali dove ci sia l'espertise, la competenza medica per poter impiegare questi prodotti. In realtà è inutile fornire dei dispositivi che poi i sanitari o i centri dove questi dispositivi vengono dati non riescono a utilizzarli al meglio. Quindi la validazione tecnologica non deve essere solo limitata al dispositivo ma deve comprendere anche l'equip che lo deve applicare, la realtà assistenziale in cui questo dispositivo viene collocato e le forme di utilizzazione nelle classi dei pazienti. Quindi non tutti i pazienti devono adoperare un dispositivo complesso per un qualcosa che magari può essere risolto in maniera molto più semplice e molto più valida da un punto di vista economico. La centralizzazione degli asquisti è per il governo una carta importante per il risparmio. Qual è la sua posizione? Ci saranno secondo lei ripercussioni per i pazienti? La centralizzazione può essere, se applicata in maniera corretta, una carta importante, però se questa viene fatta in maniera estensiva non lo è. Come accennavo prima, un conto è acquistare dei dispositivi di base, un conto è acquistare delle tecnologie o delle metodiche che sono delle tecnologie di eccellenza e dove magari non è possibile fare una comparazione di costi perché si tratta di prodotti estremamente differenti l'uno dall'altro. D'altra parte, anche per cose molto semplici, una medicazione all'argento per esempio, noi vediamo che abbiamo medicazioni all'argento che stanno nelle differenti classi di dispositivi medici. Sono quattro le classi 1, 2, 3A, 3B e ci sono medicazioni che stanno in classe 1, 2, 3A, 3B. Quindi se vogliamo centralizzare il costo di acquisto dovremmo differenziare il dispositivo nelle varie classi, dovremmo differenziare le possibilità di uso, le indicazioni di uso del dispositivo. In pratica è come se noi volessimo in una famiglia centralizzare le spese di tutto, da quelli che sono l'acquisto del filone di pane o del chilo di frutta per la cucina di tutti i giorni a quelle che sono le spese, i regali di Natale e così via. È molto difficile pensare a un sistema in cui l'acquisto dei dispositivi sia totalmente centralizzato perché in pratica tutto quello che noi impieghiamo in ospedale, a parte i farmaci e a parte i beni e i servizi, tutto il resto è tutto dispositivo. Quindi è un'enorme quantità e qualità di prodotti che si differenziano in maniera infinita l'uno dall'altro. Qual è l'impatto che hanno avuto le spending review sui servizi sanitari? È a rischio, secondo lei, l'universalismo del sistema sanitario nazionale? Questo è un discorso difficile a cui è difficile dare una risposta. Io credo che noi abbiamo una sanità che sta sempre più aumentando i propri costi e anche ovviamente sta migliorando le proprie risposte. Noi prima non curavamo tutta una serie di malattie che oggi riusciamo a curare. Abbiamo tutta una serie di farmaci, di procedure che hanno dei costi elevatissimi. Noi in realtà per un sistema molto semplice, per curare un foruncolo, possiamo spendere un euro perché lo incidiamo e lo dreniamo oppure possiamo spendere, non so, mille euro perché gli facciamo la risonanza, diamo l'antibiotico di ultima generazione, andiamo a vedere che tipo di germe c'è in quel foruncolo e così via. Pensare che il sistema sia in grado di dare tutto a tutti è certamente un obiettivo politicamente importante da perseguire ma economicamente molto difficile da sostenere in una sanità che sta aumentando i costi. La risposta a questo sarà senz'altro una risposta politica. Io credo che il sistema debba sforzarsi per dare a tutti l'indispensabile e poi magari alle classi meno abbienti di garantire il più possibile. Mentre delle forme di assistenza diversificate siano magari importanti quindi la valutazione, la possibilità dell'assicurazione sanitaria, privata per chi ha la possibilità o delle forme di assistenza garantita per particolari classi di lavoratori o di persone sia da tenere in considerazione. Un'ultima domanda, se fosse lei il Ministro della Salute, qual è la misura più urgente che metterebbe in atto? Ah guardi, io sono contento che sia la Lorenzina a dover prendere questa rogna. Però sicuramente se noi parliamo di sistema sanitario nazionale, io cercherei di fare un grosso sforzo per uniformare la realtà nelle varie regioni, quindi di far funzionare in maniera più stringente e più completa la conferenza Stato-Regioni su questi temi, perché è poco accettabile che un qualcosa sia garantito che ne so in Calabria e non in Sicilia oppure in Lombardia e non in Emilia-Romagna e secondo punto cercherei di richiamare, diciamo responsabilizzare sempre di più anche le realtà individuali, regionali, ospedali, eccetera, con un controllo di quelle che sono poi le spese e i risultati.